Una stagione nera, nerissima, per il Gran Sasso, che fa i conti con continui rinvii e problemi di ogni genere. Dopo i danni alle due stazioni di Valle e di Monte, con le coperture spazzate letteralmente via dal vento, sono ripresi regolarmente i lavori alla seggiovia delle Fontari a Campo Imperatore. Appare evidente che i lavori vanno conclusi entro gennaio, altrimenti la situazione diventerà davvero insostenibile. In settimana, per fare il punto, ci sarà una riunione tecnica in comune. I lavori vanno avanti, ma si sa che lassù bisogna sempre fare i conti con le condizioni climatiche spesso avverse. Intanto si stanno chiudendo le pannellature nella stazione di Valle, si stanno montando i seggiolini e poi si passerà il montaggio della cabina elettrica la prossima settimana. Lavori e poi ci dovrà essere il collaudo. Se tutto andrà nei piani tra fine gennaio e inizio febbraio, potrebbe esserci l'inaugurazione. Rimane anche il problema dell'ostello, che va aperto a tutti i costi, visto che l'albergo di Campo Imperatore ormai è out. All'interno ci dovrebbe essere anche un bar per far fronte alle esigenze degli utenti in quota. E mentre tutte le stazioni scistiche del comprensorio hanno fatto registrare il boom e il pienone nelle vacanze di Natale, amaramente sul Gran Sasso niente di niente, se non la buona volontà degli albergatori, che ancora resistono nonostante tutto.